Salve ragazzi ben ritrovati, finalmente abbiamo il trailer di Akuma, ieri sera il Capcom Highlights è stato annunciato e devo dire che non me l'aspettavo non mi aspettavo assolutamente nulla da Capcom Highlights e invece sono rimasto positivamente sorpreso quindi abbiamo un primo teaser di Akuma che è probabilmente, anzi, sicuramente il personaggio più atteso di questo primo season pass ovviamente è presentato in maniera molto cinematica e completamente diversa da tutti gli altri personaggi perché solitamente gli altri personaggi sono presentati con una cutscene del World Tour che presenta anche il personaggio creato, diciamo il personaggio che dovrebbe rappresentare il giocatore mentre qui il focus è esclusivamente su Akuma, quindi questo vi fa capire che è comunque un personaggio che verrà trattato diversamente da Capcom rispetto a tutti gli altri ed è ovvio che sia così perché Akuma è Akuma dal trailer non si vede tantissimo in realtà a parte il fatto che come vedete qui è gigante questo personaggio è diventato ancora più grosso rispetto al passato ha i capelli tutti bianchi e quindi anche invecchiato ma questo ha senso perché il gioco è comunque ambientato in una timeline molto successiva rispetto ai vecchi Street Fighter quindi è giusto che abbia tutti i capelli bianchi, stanno venendo a me i capelli bianchi, figuriamoci ad Akuma sembra molto potente, a me dispiace che non si sia vista manco una piccola sequenza in game per far vedere il render però secondo me, ovviamente qui siamo nel reame della speculazione selvaggia sarà un personaggio forse un po' più lento rispetto al solito a me sembra un po' preso da Oni per certi aspetti e Oni non era un personaggio velocissimo in Street Fighter 4 perché dovete sapere che in Street Fighter 4 era presente una versione iperpotenziata di Akuma che poi fa un po' ridere perché di fatto Oni era low tier nonostante teoricamente a livello di lore dovesse essere l'essere più potente del gioco e diciamo che funzionava in maniera diversa rispetto ad Akuma tradizionale io penso che prenderanno qualcosa da Oni, sinceramente perché mi sembra molto più vicino alla sua forma demoniaca che alla sua forma da Shoto tradizionale e sicuramente vorranno renderlo molto figo dal punto di vista delle animazioni e parliamoci chiaro, le animazioni di Akuma tradizionale sono molto simili a quelle di Ryu e quindi non sono molto coreografiche invece quelle di Oni è tipo un demone gigante che spacca mondi quindi ovviamente almeno qualcosa secondo me prenderanno anche perché, pensiamoci, proviamo a speculare un secondo Akuma è la forma base Oni è la forma perfetta, diciamo definitiva quindi ha senso che Akuma nel suo allenamento cerchi di avvicinarsi alla perfezione che è Oni e inizi ad apprendere tecniche che poi lo porteranno a diventare così quindi se Oni è la perfezione comunque un Akuma più avanzato rispetto a quello di Street Fighter 4 e di Street Fighter 5 un Akuma che è andato avanti nell'allenamento è quasi scontato che abbia delle tecniche che vengono prese da Oni non mi sorprenderebbe vedere un personaggio molto diverso dallo Shoto tradizionale magari ha giusto lo Shoryuken le bolle non sono le stesse non mi aspetto sinceramente uno Shoto sarei sorpreso di vedere uno Shoto banale tra virgolette ma mi aspetto qualcosa di molto più coreografico e avanzato anche perché tutti i DLC di Street Fighter 6 sono stati personaggi estremamente avanzati e sfaccettati a parte Ed che fa schifo ai cani quindi mi aspetto un Akuma molto variegato quindi non mi aspetto un altro Ryu per dire mi aspetto qualcosa di diverso qui vediamo che con uno Shoryuken distrugge la statua sembra essere una statua parecchio pesante lo decapita addirittura questa credo che sarà la palette cromatica della Critical Art secondo me diventerà tutto rosso in questa maniera ma ripeto ci divertiamo a speculare perché non abbiamo niente di confermato ed è bello vedere se poi queste previsioni saranno disattese oppure saranno confermate questo è il lavoro che secondo me si deve fare con i trailer perché ripeto sarebbe stupido cercare conferme laddove non ci sono perché questo trailer non conferma assolutamente niente ci sono delle scritte con i kanji tipo questa che diciamo sono lower accurate sono a tema con Akuma ma di fatto anche loro non rivelano tantissimo quindi il personaggio ovviamente sembra figo ma sembrava figo sin dagli artwork questo forse è uno screen un pochettino più attendibile di Akuma e poi prende a pugni la telecamera perché sì insomma quindi Akuma arriva nella primavera 2024 il che significa che sicuramente per giugno ce lo avremo ma direi che era un po' il segreto di Pulcinella perché a giugno devono partire con il CPT quindi ci sarà sicuramente la patch di bilanciamento e Akuma prima di giugno spero molto prima perché non penso che vorranno partire con il nuovo CPT insieme alla patch ma vorranno dare credo un mesetto di tempo ai giocatori per abituarsi sia ad Akuma sia ai nuovi bilanciamenti che arriveranno diciamo che al di là di questo al di là dell'annuncio di Akuma la cosa che mi è piaciuta del Capcom My Lights è che vedo finalmente parecchio entusiasmo da parte degli sviluppatori perché hanno reiterato più volte durante il segmento di intervista questo è solo l'inizio stiamo preparando i nuovi contenuti della season 2 siamo all'inizio di Street Fighter 6 preparatevi, tenetevi forte e cose di questo genere quindi sinceramente rispetto al passato anzi rispetto alla mancanza di comunicazione del passato vedo proprio un po' di timido entusiasmo in più ovviamente potrebbe essere politichese ma potrebbe anche non esserlo potrebbero essere anche genuinamente eccitati per quello che verrà io lo spero perché il gioco ormai è molto stantio Ed purtroppo, ripeto, non ha migliorato la situazione perché è uno dei personaggi abbandonati più velocemente probabilmente della storia di Street Fighter 6 è durato due giorni e poi la gente lo ha abbandonato e quindi bisogna vedere che cosa farà Akuma sicuramente Akuma sarà utilizzatissimo dalla community di Street Fighter 6 sarà molto probabilmente rotto ma questo perché storicamente è sempre stato rotto è un po' un meme è un po' come il discorso che Danna deve essere scarso per forza generalmente Akuma nella sua prima iterazione è sempre sgravato è sempre stato così quindi mi aspetto una cosa del genere però mi aspetto anche grosse modifiche al gameplay come ho detto perché secondo me sarà radicalmente diverso da uno shoto tradizionale proprio perché con i DLC stanno andando anche avanti a livello di spettacolarizzazione dei match e quindi stanno alzando un po' l'asticella e Akuma è il picco la punta dell'iceberg di questo primo season pass quindi si hanno messo tanta cura nelle animazioni di Ed non oso immaginare con Akuma quindi ripeto aspettatevi qualcosa di diverso da Shoryuken Tatsumaki ad Hoken secondo me si avvicinerà un po' a Oni come vi ho detto prima per quanto riguarda invece i bilanciamenti non ne hanno parlato ma non era la sede adatta quella del Capcom Highlights io mi aspetto e sarebbe molto carino se lo facessero una piccola live in cui parlano un po' del game design e delle direzioni che vogliono prendere con il bilanciamento prima dell'uscita della patch perché ok sono importanti i contenuti ma anche sollevare un po' di hype e dare un po' di speranza alle persone che non tanto gradiscono la direzione intrapresa da Street Fighter 6 non sarebbe male bisogna parlare di più quindi questo è un buon inizio sicuramente il ritmo è molto più veloce rispetto al passato perché abbiamo avuto adesso a Ed quindi c'è già il trailer di Akuma e questo lascia ben sperare anche perché devono chiudere ripeto la season prima dell'inizio del CPT quindi quando mi aspetto Akuma qui c'è Spring 2024 per i giapponesi la Spring dura fino a giugno quindi prima di giugno sicuramente lo vedremo la mia scommessa è che lo vedremo al Capcom scusate all'Evo Japan di aprile almeno trailer di gameplay con un'uscita nelle due settimane successive sarei sorpreso di vederlo a maggio inoltrato quindi secondo me fine aprile lo riusciamo a vedere il che è una buona finestra di lancio perché ripeto Ed è uscito a fine febbraio due o tre mesi secondo me sono il tempo ideale per fare e rilasciare un nuovo personaggio ovviamente arriveranno anche i costumi 3 per i DLC per Rashid per Ed sono curioso di vedere quello di Ed per Haki insomma per tutti i DLC e anche penso per Akuma uscirà già con tre costumi credo ci sarà il solito World Tour la parte di World Tour legata ad Akuma in cui si potrà diventare allievi di Akuma Chiara è felicissima di questa cosa e quindi diciamo che va bene ma aspettiamo anche un po' di hype legata al bilanciamento e alla season 2 sperando di vedere anche i personaggi della season 2 presto e sperando di vedere il mio caro Dudley perché mi manca un pugile Ed maledizione non è un pugile quindi aspetto almeno un pugile vero possibilmente Dudley grazie ragazzi per l'ascolto e ci vediamo al prossimo video grazie a tutti